Il presidio del territorio delle forze dell'ordine in corso San Felice, come insistentemente chiesto dai cittadini, funziona come deterrente quando viene messo in atto. Un pericoloso pluri pregiudicato per violenza e spaccio di stupefacenti in possesso di due coltelli, ieri mattina ha tentato la fuga alla sola vista della Pantera delle Volanti che pattugliava il quartiere. In seguito e messo alle strette, il 27enne cittadino nigeriano aveva reagito aggressivamente contro i poliziotti che lo avevano costretto a fermarsi. Privo di documenti l'uomo è stato infine portato in questura per ulteriori accertamenti. Oltre alle due lame il pregiudicato è stato trovato in possesso di tre smartphone e due distinte somme di denaro che non ha saputo giustificare rispettivamente di 380 e 5.000 euro che sono state sequestrate. Dopo il fotosegnalamento il 27enne è stato denunciato alla procura in stato di libertà per porto abusivo d'armi atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.